La ferrovia Subapennina Italica ha registrato per la Regione Marche un grande successo anche perché ogni corsa di questa ferrovia registra sempre il sold out con almeno 300 persone a bordo su questo treno proveniente da tutta Italia. Quest'anno faremo 30 corse, abbiamo già prenotazioni dal Trentino, dalla Val d'Aosta, dal Piemonte che ci fa ben sperare.